devo farmi però le munizioni prima ok facciamoci le munizioni mi serve un pompo devo trovarne uno in giro prima o poi allora penso che ho fatto sta strada 20.000 volte dovrei sapere la memoria a sto punto quindi se non erro esatto il nostro matto treno è proprio qui davanti dovevamo passare di qua che schifo meglio mi metto la maschera? sì a quanto pare in questa zona è meglio mettersi la maschera andiamo 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 beh salve no 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 ci parlo io eh vabbè ho capito loro no grazie mille non ti dero da ma che cacchio no non è andato tutto bene e fammi passare forse possiamo attraversare il ponte senza doverlo asfaltare ci sono delle carovane di mercanti che risalgono il ponte e la gente del ponte commercia con loro se ci travestiamo da mercanti potremmo infiltrarci e abbassare il ponte secondo Katia funziona ancora se ci muoviamo velocemente non ci fermerà sì ma senza di loro io non vado da nessun parte e anche se ci provassero lo attraverseremo lo stesso che quei fanatici lo vogliano vogliono il sangue lo avrà ora non ci resta che attendere la barca dei mercanti signor colonetto non possiamo lasciarle più così ecco infatti ha ragione così se le mangeranno di stefan usa il cervello prima di aprire la bocca ma ragione lui stiamo andando vero ti rendi conto di cosa dovremmo affrontare secondo te dove dovrebbero dormire sull'aurora sulle casse di carbone è perché adesso dove dormo ma per una donna e per giunta con una bambina di sei anni questo è inaccettabile è tanto meglio lasciarle per la strada allora possono usare la mia coperta io andrò nella sala cantina non riuscirai a dormire lì dentro rischi di addormentarti al turno di guardia e di farti ammazzare quel che è certo è che non possiamo abbandonarle infatti ha ragione perché intanto non andiamo a prendere il vagone di cui parlava Katia non possiamo lasciare quella bambina e poi dovremmo dormire a turno ancora per molto ricominci di nuovo e come proporresti di recuperarlo quel vagone sentiamo non porterò certo lì l'aurora non è necessario ho una motrice nascosta nel termine potrei inario un vagone come se niente fosse tanto chi è che dovrà farlo? è infatti strano quindi io e Artyom si sono trasformati in Artyom avete vinto sono stufo di fare sempre la parte del cattivo prendiamo quel vagone e portiamo con noi i civili Artyom vuoi occupartene tu? per forza mi parla ascolta se avvisti la carovana lascia tutto e corri al ponte sarà l'opportunità migliore per attraversare il ponte grazie papà Katia e Nastia quindi saranno molto gravi vieni Artyom la motrice non funzionerà senza questo fusibile dammi il fusibile è un vero gioiellino non ti deruderà perché ti devi inginocchiare per darmi quanto ne abbiamo passate insieme io e lei abbiamo trasportato di tutto e lei mi ha sempre tirato fuori dai tuoi speriamo lo facciamo anche con me perché io ho molta sfortuna eh ci andremo adesso ottimo forse è meglio la gente così mi danno anche munizioni Tiuk è in missione in quella zona tiene sotto controllo i ponte il segnale è pessimo riceviamo praticamente solo interferenze se lo vedi fatti raccontare gli ultimi sviluppi sul terminal faremo così scommetto che eri d'accordo con Anna e Stefan credimi anche a me sta al cuore il destino di quelle due ma non sappiamo se quello che ci aspetta sarà meglio dei fanatici beh immagino che chi vivrà vedrà finito sei stato bravo a convincere il vecchio non ho fatto niente io Anna grazie a te e ad Artyom per averci aiutate non so proprio che fine avremmo fatto senza di voi è un posto maledetto è quel Silantius aspetta che parta il treno prima di ringraziarci ora dipende tutto da Artyom augurategli buona fortuna sì anche perché in effetti faccio tutto io certo che Dio ti benedica Artyom ma se io fossi qua ma dove era andata prima l'ha preso un demone uno di quelli che volano e fanno paura vivono lì oh do l'ha preso per i suoi piccoli ma mi manca tanto mi manca tocca morire per dargli uno soccato al bambino ma mamma ha detto di no perché ci sono anche i demoni elettrici oh signore benedetto come vuoi fare è vero escono fuori di notte e illuminano tutto sono bellissimi cosa c'è lì dietro ma fanno anche un po' paura eeeh proverò a prenderti l'orsacchiotto che quindi devo andare quasi dritto quasi tanto gente che ride non è una buona prospettiva allora dovrebbe essere qua abbiamo detto esatto c'è dentro qualcosa oh porca la troia tutto per una chitarra non mi hanno visto non c'è poi un sacco sta cosa per ora non mi hanno ancora visto morto devo avanzare leggermente l'ho sentito aspetta 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 cazzo che spara così a minchia merda andiamocene di qui mentre siamo ancora in giro cazzo l'hanno beccato cazzo di me ok ehi non sparare mi arrendo ehi ok non male guarda prendiamo tutta la roba prendiamo un po' di munizioni dove sarà la cosa la chitarra va a farle la chitarra scusate io sono andata solo qua per questo c'è ancora un piano sì ho sbagliato però prendo cazzo è una chitarra ancora su madonna eccola chitarra presa ora tocca all'orsacchiotto cazzo